Loredana Berti quest'anno festeggia 50 anni di carriera e ricordando i suoi esordi, in un'intervista a chi, rivela com'è iniziata la sua carriera da cantante, sono entrata nel mondo dello spettacolo come ballerina al Piper, accompagnando e ricordando i suoi. È stato Bill Contim, con il quale ho fatto due anni di prove al Sistina per Hair, a mettermi in testa di cantare, io non ci pensavo neanche quando mi vedo sul palco sto sempre bene, è la mia valvola di sfogo, questo dall'inizio a oggi non è mai cambiato. La canzone che porterà sul palco di Sanremo si intitola Pazza e questo titolo ha un perché, tante volte mi hanno detto, sei pazza, in modo serio o ironico, e sono andata avanti per Follia fa rima con libertà, pazza è per tutti i folli liberi. Questa per Bertè sarà la dodicesima partecipazione al festival della canzone italiana, ma c'è un dettaglio particolare che riguarda Angelina Mann. Era il 1986 quando per la prima volta Loredana salì sul palco Sanremese con un brano e, soprattutto, un'esibizione indimenticabile. La cantautrice era già famosa e, soprattutto, un'esibizione indimenticabile. La cantautrice era già famosa. Era il 1986 quando per la prima volta Loredana salì sul palco Sanremese con un brano e, Bertè portò a Sanremo la canzone rescritta da Pino Mango, insieme al fratello maggiore Armando, lanciandolo così ufficialmente al grande pub. La performance suscitò non poco scalpore o meglio, fu un vero e proprio salto. La cantante salì sul palco affiancata da due ballerine e tutte e tre indossavano un finto pancione, qui per vedere il video dell'esibizione su Rai. Dopo il festival fu pubblicato il 45 Girire, fotografando, che conteneva appunto da un lato il brano portato a Sanremo e dall'altro fotografando, anche questa scritta da Pino Mango. Dopo il festival fu pubblicato il 24, a 73 anni e con 50 anni di carriera alle spalle, sul palco dell'Ariston Loredana incontrerà Angelina Mango, la figlia del grande. Avevo passato anche alcuni giorni a casa sua a Lago Negro con lui e sua mamma. Avendo conosciuto suo padre provo tantissima tenerezza per lei e come artista Angelina ha molta grinta, mi piace tanto.